e successo sono oggi slash credo se e solo se non così così come diceva il mio gnatto il mio gnatto bisogna fare un gnatto che non mi sono vero 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 guardate il motel uno oh tu dove saranno il motel? mi chiamo uno no no se non hai chiesto per due che cosa sarà? lo subiamo al secondo perché oh tutto bene stai le suggestioni grazie del domino di camina tutto . . . . . Grazie.